Benvenuti ragazzi e ragazze, sono Rossi, benvenuti in questo nuovo video Come mia cugina, cugina scusate sono stanca per te E' l'una di notte, cioè so quasi le due di notte, l'una e quarantadue No, l'una e quarantadue, so l'una e quarantadue, so l'una e quarantadue Sembra una mano, so l'una e quarantadue Non sapevo cosa fare, allora Questo video vi faccio vedere Io come mi faccio lo scrub Allora, come sapete, noi femmine, donne Cioè, più che altro donne si dice, ma pure noi ragazze Ci teniamo tanto, soprattutto alle labbra, perché è la parte più importante del trucco Io parto, io devo dire che questo è bruciante Io uso il colgate total, che è comunque una cosa normale La picchietta sul dito Una picchietta sulle labbra, così Non spalmo Sì, sembra qualcosa, però identifica E dovete fare tre strati Ok, testa di sotto Ci mancano i testati sopra E' identifichio, non vi pensate che sia che cosa Non vi pensate neanche che sia la fragola Come avete visto il colgate Non vi pensate che abbia qualche gusto Questo deve proprio bruciare per eliminare i batteri Terza strada Questo ci ho fatto uno scherzo qui E' impito tutto il tappo con il dentifichio E perciò mi vedevate che lo prendevo dai labbi Adesso, però, per far l'occupazione anche al più Ci mettiamo un po' di Listerine sopra Ovviamente non mi pagano E' per favore un mio scherzo Non si sa più che cosa sia Per favore un mio scherzo Vedete, spalma adesso Per se vi togli un po' di dentifichia Fa niente Vedete Vedete ora Una strada Di questo Ah, di pescare Voleva di dentista Con questa cosa Ho visto i pesi capitoli di dentista Quello è Beh E giorni da turista Che